Hello guys, my name is Aumento Carlo, voi non mi conoscete ma da oggi in poi sarò il vostro punto di riferimento quella persona che vi aiuterà ad arrivare dalla situazione attuale alla posizione che avete sempre sognato quella che realmente vi meritate e quella che realmente fa il caso vostro